Si allontana Marchisio, andrà Del Piero Da questa posizione parte Del Piero 1-0 Juve, il sicillo del capitano Io devo dire sempre così, perché così porta buono al giocatore Perché non aveva toccato molte palla e ha inventato un gol meraviglioso, un super gol Del Piero, prova Del Piero, gran palla dentro per Marchisio 2-0 Juve Adesso in questo momento Marchisio deve andare Dalla quinta Del Piero, avete visto come si fa? Sto scherzando naturalmente, un grande passaggio di Del Piero L'ha messo in condizione di farla, è stato molto bravo perché la palla lunga Era un po' leggermente più lunga, lui ha anticipato il portiere con un tocco di punta Veramente una grande azione Grazie